il più grande attore italiano comico di tutti i tempi il vero trader il vero investitore non solo di giovane figa ma di soldi il mitico cipollino vuoi diventare ricco sfondato seguimi un cretino ma dove vai boccalone e lui ci crede seguimi ma se non sei pratico e ti illudi sciocco il mondo è pieno di fregature e invece no e invece no sai perché perché c'è macroforex che ti farà il mago forest c'è il mago forest ma vi rendete conto come il mago forest se ci fate caso cercate legge non sa dove si trova il mago forex ma non è il mago forest se io ho capito male no è una sì è una cosa di non lo so di commerce di mago forest lui immagino che si senta un grande tipo testimonial in questo momento che ha fatto prima cosa il bait poi no e sì e no è proprio l'apoteosi della tristezza della canna del gas per un artista quando arriva a fare neanche le pubblicità squalidissime che ne so poltrone sofà o cazzate anzi no quelle guarda sono al limite dello squallore quelle ancora più squalid sono tipo quelle che trovi come poster in giro dalla strada un tizio famoso che ne so ti consiglia questa cosa qua cioè questo è ancora peggio fai le sponsorizzate per ragazzetto su instagram cioè proprio è molto più dignitoso andare che ne so ad una festa di compleanno come guest c'avevo ragione guani ma è esattamente il canto del cigno per quello mi veniva da troppo da ride quando si parlava di credibilità sì sì la significa che l'hai persa completamente significa poi all'inizio fa la scena tipo vuoi diventare ricco con il cappellino un po' shady come ad esorcizzare una cosa che questa qui che sta facendo non dovrebbe essere ma che in realtà è esattamente quello anche se lo prende in giro ma quello lo stanno facendo in molti realtà e anche questi ragazzotti da quattro soldi vi siete stufati delle solite promesse dei guru beh noi non siamo altra solita promessa esatto però però che vi dice di non essere una solita promessa cioè questa la la bellezza e per chi ci dava la ferilli sì non a caso infatti qualche live fa abbiamo discusso anche di questo status acquisito che però ormai non viene più mantenuto da nulla e boldi è un altro esempio eccellente cioè non fa più una cappella da una vita per boldi è una maschera di fatto no è un'icona e va benissimo però cioè sono tutte persone che continuano a campare di rendita ma non è che dicono due anni tre anni da vent'anni da vent'anni devono crollare perché campano di rendita campano di ricordi di nostalgia e questi qua lo fanno pure consapevolmente marciandoci sopra la definizione di campare di rendita senza più inventarsi niente dare un contributo capito magari avranno dato dei contributi ma secondo me ormai da troppo tempo fa sì esatto uno dice vabbè dai un po di rendita c'è posta ma vent'anni oh dieci anni quindici anni c'è persone che non fanno più niente di ma neanche dico rilevante perché ci sta un artista magari lancia le le sue idee migliori nei primi anni poi sono tutte variazioni sul tema cazzo ma questi sono proprio una sorta di tormentone che tu carichi tipo il carillon no tu lo carichi qua è cipollino è così sì sì quello fatto sempre la stessa gag per 40 50 hai capito portrone ti fa è mai rotto il cazzo ferì mamma mia macro forex che ti farà da tramite tra utenti e proprio affidatevi a trader e seguite macro forex guarda come legge guarda come legge sì però buono perché secondo me è un'ottima vista a sto punto cioè comunque c'ha un'età non c'ha gli occhiali secondo me sono dei cartelli giganteschi tipo un metro e mezzo tipo quelli che attaccano i pazzi capito cioè c'è proprio una casa con un tendone attaccato solo forex macro forex c'è scritto due parole quello è tratter affidatevi a trader e seguite macro forex dai sì ma guarda che roba guarda come legge guarda guarda affidatevi a trader e seguite macro forex cioè non ha avuto con quanta fatica non ha avuto neanche l'impegno di studiarsi 30 secondi di battute no cioè così affarite che all'inizio sta tutto carico a pallettone poi appena deve legge va lentissimo sì a rallenti guarda all'inizio sì sì come parla come parte proprio vuoi diventare ricco sfondato? seguimi dai un cretino ma dove vai boccalone e lui ci crede seguimi ma se non sei pratico e ti illudi sciocco il mondo è pieno di fregature pure questa era scriptata pure qua ha letto ma sei sciocco e non ti illudi sciocco? cioè assurdo e poi abbiamo un altro eccolo macro forex official oh guarda è il romanaro di roma non mi devi chiamare papà e come ti devo chiamare? ma non mi devi proprio chiamare vabbè te cazzate chiamo metti pausa questa cosa è proprio per la nostalgia perché queste qua sono delle battute originali di Christmas in Love se non erro dove Enzo Salvi era il marito della figlia di Boldi e lo chiamava papà e a lui faceva schifo sia lui sia sia quelli romani ma non ti fa incazzare proprio tu che sei un appassionato un'operazione nostalgia tu che sei un appassionato mi dà fastidio ti stanno sfruttando mi dà fastidio certo certo cioè tu sei un amante di queste opere e vedi sviluppi ma non di Christmas scusate scusate e vedi che vedi che vedi utilizzate per il male quelle battute e quei personaggi eh bisogna papà dai sì ma guarda che roba cioè io adesso veramente dico ma anche un Enzo Salvi ma non si fa un po' vergogna da solo non si vergogna un po' di se stesso allora io so solo che non voglio finire così cioè tipo che noi sparatemi sparatemi noi tra 40 anni a di sempre le stesse cose a far finta di essere versioni decedute di noi stessi per far due spicci ma sì ma già è così ed io non penso che te quando finiscono i live di i g e ciao e io accogliere del duolo della flamezone cioè diciamo che noi ringraziando Dio stiamo capendo un po' come come andare avanti loro no ed è un tutto dire visto che hanno il triplo o il quadruplo della nostra età ma però vabbè io sono molto serio cioè nel senso fatemi fuori qualora dovesse succedere e sono d'accordo con Gian nel senso che ovviamente vale per molti però di base duri poco se vivi a tormentoni l'abbiamo visto anche purtroppo e mi dispiace con ospiti che abbiamo avuto nel corso degli anni che magari sono diventati viralissimi per un tormentone immaginate Demote che poi inizia a fare ripetizione guerra tra falliti robbi telet cioè sono tantissime le cose no esatto che uno può fare come esempi sono scelte sono scelte chi rimane ancorato su qualcosa secondo me è perché sa che non può far altro ed è la morte della creatività poi magari c'è il rischio che uno che ne so è scontenta per un periodo i seguaci come è successo nel vostro caso nel passaggio da magari quei meme storici la maschera l'assenza di volto di Simone quindi fammi ancora digitutubo ste cazzate li scontenti ci può stare però almeno hai un cambiamento che non che non ti rende un sasso cioè avendo tante varietà tanti cambiamenti puoi cambiare cioè puoi non incontrare più i gusti del tuo pubblico perché uno di quei cambiamenti può essere mal tollerato dal tuo pubblico ma almeno non sei statico cioè guardate sta roba è anche una trappola per la creatività cioè pensare di dover sempre accontentare significa rimescolare la minestra perché il pubblico non può sapere di volere una cosa di cui ancora non ha avuto esatto cioè capito modo di fruire semplicemente vogliono le cose che si ricordano li hanno fatti stare bene con la stessa forza innovativa dell'epoca poi che è follia certo quindi dal punto di vista del creativo puoi entrare in questa trappola in cui cioè cerchi in continuazione di rimanifestare quella cosa che hai fatto magari fortuitamente in passato e lì entri in un purgatorio di contenuti oppure cerchi un po' come noi di abbandonare proprio quel quel tipo di divisione a favore della novità e della creatività perché ci piace così essere o non essere no no sto preoccupato dai che vuoi fa no no ho tradato con l'azienda macro ho tradato con l'azienda macro ti prego guarda che cringe ti prego ho tradato con l'azienda macro e macro macro andiamo corretto guarda come si stoppa non sa che cazzo dire guarda non sa cosa sta dicendo guarda a destra guarda poi sai qual è poi sai qual è la grande differenza no che non so neanche dei meme o dei tormentoni che hanno creato loro so degli autori che gli hanno scritto quella roba per fargliela interpretare quindi ci stavo a pensare sono rimasti ancorati a qualcosa che neanche gli appartiene veramente vabbè andiamo avanti scusate ho tradato con l'azienda macro ah e macro macro ah cioè esce proprio dalla recitazione cioè ah guarda cioè come vedi non mi ricordo che cazzo devo dire e macro macro andiamo con il rap e macro 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 ma sono state che stai a fare ho com' macro macro e macro macro aspetta qua ma sono state che stai a fare ho copiato un segnale di trading di trading fammi un po' vedere eh aaaah io chissà che mi credevo come se è macro forex è chi è che lo conosce è famoso in tutto il mondo è zone limitro ah cosa cioè proprio stare una sparacazzata e versi a caso aaaah ma è famoso in tutto il mondo ma che tristezza almeno lui un minimo ha detto qualcosa ma perché è un po' più giovane è quello si è iniziato a capire sta un po' più sur pezzo però ma non sanno nulla o comunque o comunque in questo spot sembra l'opposto no paese oh beh a regge mi vibra mi salvi per la gomma mi salvi per la gomma mi salvi per la gomma mamma mia come sto ma perché oddio mio che amarezza hanno fatto tutto se le giocate tutte alla fine ovviamente è il tormentone ma vi rendete conto penso che il me bambino adesso sta sia piangendo ma allo stesso tempo sorridendo perché poi vedi no da quale parte siamo finiti un po' tutti mi salvi per la gomma